Presso un noto hotel del Valdarno, proprio all'uscita del casello Valdarno, nella notte fra venerdì e sabato, dei ladri sono entrati e hanno portato via tutto quello che c'era dentro la cassaforte. In gente il bottino in valore economico, anche perché non c'erano solo soldi, ma parliamo con Emanuele, il titolare dell'hotel. Intanto, com'è andata? E' andata che purtroppo durante la notte di venerdì, appena subito dopo il cambio di portineria, sembra che siano entrati questi malviventi. Non è ancora stato precisato quanto è il numero delle persone che erano all'interno, potrebbero essere state due. Ora non possiamo ancora dire molto, in quanto ci sono delle indagini in corso. Sono entrati e sono riusciti a sfondare diverse porte e arrivare alla nostra cassaforte per poi aprirla e riuscire a portare via quanto era all'interno. Una cifra che potrebbe essere intorno, non è quantificabile, ma intorno alle 8-9-10 mila euro. Danno non solo economico, ma anche strutturale, perché ovviamente le porte sono poi da rimettere, ma un'indagine è in corso, anche perché voi avete delle mosse ben precise. Ancora l'indagine è in corso. Ci sono delle valide possibilità che questi malviventi siano acciuffati, in quanto hanno lasciato diverse tracce. Non è facile entrare in un albergo, non in una struttura come la nostra, che è una struttura nuova e con tante sicurezze, tante porte da aprire, veramente difficile. Sono stati visti, non possiamo dire né come né in quali circostanze, sicuramente ci sono delle valide possibilità che non facciano molta strada. Questo è un caso isolato o avete avuto dei preavvisi in passato? Questo è un caso isolato perché questa sostanzialmente è una zona sicura, una zona tranquilla. Questo in particolar modo, qui dove siamo situati noi, è un porto di mare con persone che vengono e vanno in continuazione. Quindi è pressoché impossibile che chi entri qui non venga visto, non venga sicuramente documentato. I casi isolati possono succedere, purtroppo questa volta è successo a noi. C'è da dire che il nostro sicurezza ha fatto un grande lavoro e ha fatto sì che ci siano tutte le premesse per cui queste persone non facciano molta strada. Grazie.